Top 10 Il ballo di gruppo Occidentalis Karma Ma ora passiamo al ballo di gruppo del mese di agosto Ballo di gruppo del mese di Liscio.1 Sierra Sierra Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni 5 DJ Berta e Roberto Polisano con La Cucaraccia 4 Subemela Radio di Enrico Iglesias Al terzo posto c'è Il ballo di gruppo Despacito Al secondo posto c'è DJ Berta con Lento Violento Primo posto per Non fermarmi di Omar Lambertini E' nata Radio Liscio.1 La radio ufficiale italiana della musica da ballo Scarica subito l'app La puoi trovare gratis per iOS e Android Radio Liscio.1 Inimitabile Appassionata Proprio come te E' nata Radio Liscio.1